Ciao a tutti ragazzi, ben tornati dal canale di Marchesi Rosso Blu, scusate se vedete un pochino spento ma sono nella macchina ho appena finito di vedere la partita del Gubbio perdiamo per 1 a 0, risultato immeritatissimo, ingiustissimo Gubbio che per quello che ha espresso meritava almeno il pareggio invece abbiamo addirittura perso sintomo come dicevo prima anche nella scorsa partita che comunque abbiamo dei limiti, ci sono dei limiti non sono particolarmente arrabbiato perché oggi la squadra ha letteralmente dominato l'altra solamente che purtroppo contano i risultati la fermana con nemmeno uno sforzo, con proprio 0 anche perché veramente nemmeno giocava più perché tenevano palla per perdere tempo nonostante che erano in inferiorità numerica proprio con il minimo sforzo, anzi nemmeno un minimo sforzo, un niente porta via i tre punti in palio con la loro unica azione della partita a parte quella del primo tempo però quella proprio una bella parata di volpe ma una parata proprio l'unica azione degna di nota della partita che loro hanno fatto hanno segnato l'ottantaduesimo sono quelle classiche partite che se non le chiudi se non sfrutti le occasioni se non tiri in porta, se non segni ti puoi veramente rischiare grosso e vederti portare via un'intera posta in palio avendo fatto tutto te l'avversario non ha fatto praticamente nulla mi dispiace perché ci sono state molte altre partite che abbiamo meritato di perdere sempre detto ma questa oggi veramente non meritavamo assolutamente la sconfitta assolutamente oggi Gubbio quantomeno meritava il pareggio almeno il pareggio per quello che si è visto in campo dopo ovviamente abbiamo i nostri limiti non abbiamo sfruttato il fatto di essere in superiorità numerica è vero che abbiamo chiuso l'avversario in porta è vero che noi abbiamo mai dato l'opportunità di potersi portare in avanti però è anche vero che non abbiamo fatto conclusioni pericolosissime che hanno rischiato di segnare abbiamo fatto quel tiro da fuori era con Ciccone quel tiro a poco lato di testa di Bielov però non abbiamo dato quel tiro siamo stati perfetti fino a tre quarti sotto porta siamo stati un po' così infatti purtroppo loro invece non hanno fatto praticamente nulla hanno solamente subito tutta la partita un'azione, un tiro, un gol abbiamo perso questo è sintomo di una stagione maledetta che spero che si possa chiudere il prima possibile per poter resettare tutto e ripartire per una bella stagione il prossimo anno veramente questa è una stagione di merda, maledetta fortunatamente dietro hanno perso il Fano ha perso il Sant'Alcangelo non ha giocato il Vicenza ha pareggiato ha pareggiato il Teramo quindi è andato avanti solamente di un punto che poi virtualmente sarebbero quasi meno di un punto perché se tu vai a pari punti li superi perché hai sconti diretti a favore quindi diciamo che adesso abbiamo una partita importante in casa contro la Triestina quindi una partita tosta una partita veramente tosta veramente veramente tosta poi andiamo a mi sembra Bassano poi non giochiamo perché siamo fermi e poi abbiamo l'ultima in casa contro il Padova e l'ultima fuori casa contro il Padova scusate quindi domenica sarà l'ultima partita di quest'anno al Barbetti che vedrà giocare il Gubbio poi avremo due partite fuori casa con la speranza che possano maturarsi i punti per salvarsi direttamente perché dobbiamo assolutamente evitare i play out siamo a quattro punti quindi abbiamo una distanza buona discreta così si può dire anzi virtualmente sarebbero sì quattro però contando che siamo sempre sempre a meno quattro dall'ultimo posto però comunque già contando il fatto che abbiamo sconti diretti con il Fano sono virtualmente cinque quindi abbiamo diciamo un buon margine di vantaggio poi con il fatto che il Sant'Arcangelo oggi non ha giocato e domenica prossima avrebbe avuto il Modena quindi non giocherà è un ulteriore vantaggio per noi perché sicuramente il Sant'Arcangelo la prossima partita non ci supera ovviamente noi dobbiamo assolutamente vincere per poter mettere una bella distanza dai punti salvezza quindi ragazzi io non ho altro da dire non mi sento particolarmente arrabbiato perché comunque sia come vi ho detto abbiamo fatto una bella partita sono incazzato con il fatto solamente di una cosa di aver preso gol con la difesa schierata purtroppo queste sono delle cose mentali che non gliele levi nel giro di una vita cioè ci vuole non gliele levi nel giro di un secondo cioè non ci vuole una vita ma nemmeno un secondo è normale che purtroppo ci sono stati questi errori che continuiamo a farli fortunatamente si vede un bel gioco finalmente si vede giocare la squadra finalmente si vede giocare abbiamo fatto veramente una bellissima partita veramente uno dei più bei Gubbio della stagione uno delle più belle partite del Gubbio della stagione ci vediamo perdere cioè veramente quanto è bello e quanto è strano il calcio se ero un tifoso della fermana esultavo di gioia perché dicevo mamma mia speriamo di romperlo addirittura ho vinto invece se sono un tifoso del Gubbio mi incazzo e purtroppo questo è il bello e il brutto del calcio speriamo di salvarci direttamente di evitare assolutamente i play out non ci voglio andare assolutamente perché sarebbero veramente guai grossi speriamo di salvarsi in maniera diretta e soprattutto speriamo che possa finalmente risettare tutto e ripartire il prossimo anno per un bel campionato perché questa città questa squadra questi tifosi lo meritano ovviamente con Ale al timone per il momento è tutto ragazzi ci vediamo al prossimo video domenica speriamo di vincere e niente ragazzi forza Gubbio grazie a tutti grazie a tutti